Ciao, esercizi per i bicipiti, questa sezione qua, ok, l'antagonista del tricipite, puoi usare manubri, io preferisco usare sempre i manubri anziché il bilanciere, perché il bilanciere può dare fastidio alla schiena, carichi non eccessivi, io sono di stazia abbastanza pesante, posso usare anche 5 kg, mediamente 3-4 kg, è bene fare serie lunghe, anche questo è importante, perché caricare tanto significa scaricare sulla schiena, esercizi paralleli, leggermente extrarotando il polso, quindi verso l'esterno, lo puoi fare anche alternando, sempre serie da 20, 3x20, ok, lo fai verso l'esterno con impugnatura verticale, sempre 3 serie da 20, poi fai, si chiama concentrato, lo fai, l'esercizio lo fai così corto, e questo è una serie breve di esercizi per i bicipiti, poi vi farò vedere altri esercizi ancora, però attenzione alla schiena, specialmente in piedi, ciao!